Prenderanno il via domani le attività del campus estivo del secondo circolo didattico Enrico Solito. La scuola è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse per poter consentire a bambini e genitori di usufruire delle strutture dell'edificio, in un periodo durante il quale invece per tradizione le scuole restano chiuse. Laboratori, piscina, sport, lingue straniere, teatro e tante altre attività ancora nel programma del campus estivo del secondo circolo didattico. in un mix di attività che tengono impegnati i bambini dalle 9 del mattino alle 16 del primo pomeriggio, in un non stop di attività interessanti, nel mezzo delle quali i bambini potranno rilassarsi per la pausa pranzo. Dirigente Nobile, per l'ennesimo anno il secondo circolo didattico Enrico Solito organizza il campus estivo, una iniziativa che ha un po' anche anticipato quelle che erano le linee governative, cioè tenere le scuole aperte anche d'estate. Sì, sicuramente. Noi ci stiamo preparando a questo grande evento, come ogni anno. La scuola, sicuramente possiamo dire che l'Enrico Solito ha precorso i tempi. Il Ministero, infatti, ha capito l'importanza per gli alunni, per i genitori, l'importanza di tenere le scuole aperte in estate. La scuola, quando apre, con tutto rispetto per il grande lavoro che fanno le varie associazioni culturali o le parrocchie, la scuola, quando apre in estate, apre come scuola, non come Grest, quindi apre con dei professionisti. La nostra scuola, dico, si sta preparando a questo grande evento. Da domani noi, per quattro settimane, avremo la scuola aperta, non solo ai nostri alunni, ma alla città. E' una scuola che continua, che continua con un sistema diverso, forse come dovrebbe essere tutto l'anno. Una scuola fatta di laboratori. Più come si organizza una giornata intensa di campus. Sì, hai detto bene, intensa, perché veramente l'intensità è la valenza che caratterizza e contraddistingue il campus. Un campus che è una proposta progettuale del nostro POF, che ormai è radicato nel territorio, è come proposta progettuale del nostro POF, ma come servizio al territorio. Infatti, la scuola durante il campus si trasforma, diventa attrattiva. Diventa attrattiva proprio nella misura in cui la didattica si trasforma e cambia la nostra metodologia per quello che concerne soprattutto l'aspetto dell'approccio metodologico e delle strategie. Si svolge tutto in laboratorio e si diventa, diciamo, in un dinamismo proprio così, si diventa a volte compagni di gioco con i bambini, con i bambini interni e soprattutto con gli esterni. Ecco che diventa quindi, questa scuola diventa piacevole in estate.